Il rapporto Istat sulla conoscenza utilizza il concetto di informazione economica, cioè di sapere utile, e colloca la lettura nell'uso della conoscenza. Qual è il suo punto di vista da editore? La lettura è certamente un strumento fondamentale di conoscenza e la lettura dei libri in particolare oggi più che mai in un mondo complesso consente una conoscenza articolata. Il fatto che i giovani siano i più forti lettori di libri dimostra che questo è consapevole anche nelle giovani generazioni e ci dà molta fiducia per il futuro.